Siamo ad Arezzo in via Madonna del Prato in compagnia del consigliera comunale Meri Cornacchini che ha organizzato una gara di solidarietà. Sì, abbiamo il nostro punto qui in via Madonna del Prato di Arezzo nel cuore, abbiamo creato questo punto proprio per andare incontro alle famiglie che hanno bisogno. Qui è un piccolo mercatino, è un fondo che c'è stato messo a disposizione da una nostra volontaria in modo gratuito. Teniamo il mercatino aperto quando è possibile che non c'è la zona rossa e mettiamo a disposizione tutto quello che abbiamo. Il ricavato viene utilizzato per l'acquisto di beni di prima necessità per le famiglie aretine in difficoltà. Ecco, qui possono venire tutti gli aretini e non portare le cose che magari hanno nell'armadio e non adoperano più da tanto tempo. Sì, qui possono portare oggetti tutti, vestiti, quello di cui si dispanno e questo è stato anche creato per un motivo perché io sono quella che ha lottato tanto contro l'abbandono ai rifiuti, quindi l'appello che abbiamo fatto è di riciclare. Cioè, invece che buttare a cassonetti oggetti buoni e ancora utilizzabili, sarebbe opportuno metterle a disposizione di chi ha bisogno. Quindi abbiamo fatto questo punto di raccolta. Qui è piccolo, però stiviamo tutto a casa, abbiamo dove poter raccogliere il tutto. Infatti li teniamo carrozzine, passeggini, lettini, ovetti, box, di tutto. E mettiamo a disposizione queste cose per le famiglie che hanno bisogno. Come realtà abbiamo 120 famiglie che assistiamo da oltre un anno e non ultimo è stata la raccolta alimentare che abbiamo fatto nei quattro punti Conad con l'autorizzazione dei direttori. E in questa raccolta sabato eravamo quattro realtà retine, avevamo l'associazione Amici Voci di Daniele, avevamo famiglie insieme, c'era anche la Casa Gialla, la comunità per ragazzi minori, la Casa Famiglia. E abbiamo fatto questa raccolta mettendo poi, una volta quantificato tutto quello che abbiamo raccolto, mettendo a disposizione delle famiglie che abbiamo qui. Dobbiamo dire che la maggior parte delle famiglie sono a retine, abbiamo pochissime persone estracomunitarie e probabilmente perché avranno, riusciranno ad avere altri sostegni. Le famiglie che non riescono ad avere sostegni ci contattano in modo privato e noi distribuiamo tutto quello che riusciamo a raccogliere. Dobbiamo ringraziare innanzitutto le realtà che insieme a noi stanno collaborando. Dobbiamo ringraziare le famiglie a retine che ci donano qualsiasi oggetto che a loro rimane in più. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno accolto il nostro appello per la donazione dei punti S lunga e ce ne sono stati donati così tanti e questo ci permette di fare acquisti per le famiglie in difficoltà. Ringraziamo anche i direttori della Conad Arezzo che ci hanno permesso di fare questa raccolta alimentare. La solidarietà è per tutti e quindi grazie a tutti per quello che state facendo per noi e per le famiglie.